Dopo il grande fratello VIP Diane Mello sconvolge i fan con una dichiarazione inaspettata, forse ho un fidanzato, è un mio ex. Che sia fuori o dentro la casa del GF VIP, Diane Mello riesce sempre a creare scalpore, questa volta ci è riuscita con un'inaspettata dichiarazione sul presunto ritorno di fiamma con un ex fidanzato. Ma di chi si tratta? Scopriamo le sue dichiarazioni e chi potrebbe essere l'ex in questione. Legge anche, la fidanzata di Oppini, in retroscena su Diane Mello e Tommaso Zorzi Diane Mello ha un fidanzato? Durante l'intervista per Casachi, format social del magazine di Alfonso Signorini, la brasiliana Diane Mello ha fatto una dichiarazione inaspettata su un suo ex fidanzato. Ecco le sue dichiarazioni, chi è l'ex fidanzato di Diane Mello? Secondo le indicazioni di Diane Mello sul presunto ex fidanzato, alcuni nomi sono da escludere a priori. Uno tra tutti, sicuramente Stefano Sala, felicemente sposato. Foto, isaekia.it, foto, chiocciola Steven Living Room, i.g., da poter eliminare dalla lista anche lo storico ex Carlo Beretta, attuale fidanzato della dell'Ellis, che oltre alla felice relazione in corso, non ha figli. Foto, solo donna.it, foto, chiocciola Carlo Gussa, i.g., un nome, però, che riaffiora dal passato di Diane, potrebbe avere tutte le caratteristiche necessarie descritte dalla modella, Mario Balotelli. La loro storia, come spesso raccontato anche al GF, aveva avuto inizio sin dall'arrivo di Diane in Italia. La modella, inoltre, ha sempre ribadito un forte legame con il calciatore. Foto di Knews.it voi cosa ne pensate? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di per scoprire in anteprima tutte le news sugli ex protagonisti del grande fratello VIP e non solo. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.